puoi entrare nel dettaglio di come avviene il primo incontro di Majorana e poi come appunto già lo stai dicendo si sviluppa negli anni, che cosa accade? Com'è possibile che Rolando Pelizza vive a Brescia e si incontra con Majorana che sta nel sud Italia, come avviene questo fatto? L'incontro, Rolando Pelizza era un membro di una famiglia che commerciava in calzature, era una famiglia che per l'attività aveva tra i suoi clienti anche alcuni monasteri, quindi lui è andato in questo monastero a svolgere la sua funzione di commerciante di scarpe, a un certo punto mentre lui commercia e quindi fa anche conteggi perché li fa molto rapidamente, si avvicina un fraticello che porta un saio un po' diverso da quelli degli altri, però sempre vestito da frate, che lo ascolta, lo guarda e poi a un certo punto scherza con alcune battute, alcune cose, Rolando era molto arguto, era molto facile anche la battuta, simpatico e dopo un po' questo fraticello prende un fogliettino e gli dice, Rolando visto che tu sei così bravo nel fare i calcoli, io ho questo problemino di cui servirebbe la soluzione ma nel giro di una settimana, dieci giorni, potresti aiutarmi a risolverlo? Rolando lo guarda e dice sì sì e se lo mette in tasca, poi si rimette a fare le attività con i suoi colleghi, si rende conto che ha ancora del tempo, riprende il foglietto, lo guarda e trova quasi rapidamente la soluzione. Quindi non in dieci giorni? Nel giro di poche ore, perché è tornato indietro e quando lo ha trovato, lo ha chiamato e ha detto guarda che io la soluzione l'ho trovata. E questo Ettore Majorana lo ricorda in una lettera a Rolando di come lui, che fosse uno dei più bravi a fare i calcoli e era riconosciuto da tutti i colleghi di via Parisperna, si è sorpreso di come c'era un altro che era capace. E lì Ettore Majorana ha capito che aveva davanti il soggetto di cui lui aveva bisogno, perché Ettore Majorana era un fisico teorico, puramente teorico e non avrebbe avuto nessuna possibilità di sviluppare materialmente la macchina, ma ha bisogno di qualcun altro con il quale entrare in contatto. Siccome per Ettore Majorana per poter sviluppare il progetto della macchina aveva anche, e non potendo fare i calcoli con le calcolatrici che non c'erano ma le faceva a mano, si è dovuto inventare una matematica completamente diversa che consente di semplificare in un modo incredibile i calcoli. E questa matematica gli aveva consentito quindi di sviluppare in modo esatto la macchina di progettarla e però serviva chi lo facesse. Rolando Belizza era conosciuto dal convento perché era un pratico, risolveva rapidamente i problemi anche del tipo tecnico che c'erano legati alle calzature e non solo, anche ai materiali delle calzature. E in più aveva questa rapidità di calcolo, questa grandissima rapidità nel fare i calcoli e aveva un'altra caratteristica, non aveva studiato, non aveva i limiti che il nostro tipo di studi mette, paraocchi e quindi era curioso e aperto a tutto. Una mente vergine. E quindi a quel punto lui gli ha fatto una proposta e gli ha detto io sono a conoscenza di una, ho sviluppato una fisica e una matematica che fuori non c'è. Chi andrebbe di approfondirla, di studiarla insieme a me? Rolando Belizza che per risolvere i suoi problemi a volte trovava degli ostacoli abbastanza grandi anche nella sua attività o nelle fabbriche, ha accettato immediatamente perché ha intravisto visto che aveva davanti un uomo, anche se coperto d'azzaio o anche, nonostante d'azzaio, di un'etica particolare perché si era comportato sempre in modo esemplare, ma gli metteva a disposizione una conoscenza che lui non aveva più possibilità di recuperare da nessuna parte, non ha avuto esitazione, ha accettato immediatamente. Quindi non ha avuto nessun dubbio su chi fosse il personaggio che aveva davanti. No, lui quando l'ha visto ha capito che era una persona gradevole e dopo 6-7 mesi nelle lezioni che aveva e ricordando alcune notizie che si sentivano un po' in giro, ha avuto il dubbio, ma non ha avuto neanche la voglia di chiederglielo, non gli interessava perché era troppo importante quello che gli stava passando ed era importante nella modalità con cui glielo trasferiva, glielo riusciva a ogni lezione, lui tornava a casa che già aveva fatto quel passo avanti, tornando a casa su il viaggio e nel periodo che intercorriva tra una corsa all'altra, lui lo rielaborava per far proprio i propri concetti e questo è stato la base della loro comunicazione, perché per comunicare noi usiamo dei codici, le lettere sono dei simboli, i numeri sono dei simboli, a seconda di come li aggreghiamo i suoni diventano dei simboli, diventano frequenze che entrano dentro di noi e lui faceva questa esercitazione, perché li interiorizzava, li metabolizzava. Quindi fammi capire Piero, per un certo tempo Rolando nemmeno sapeva con chi aveva a che fare. Dopo poco più di un anno Ettore Majorana gli ha detto chi era. Quando ha capito che si poteva fidare perché rispettava i segreti, rispettava i compiti che lui direttamente o indirettamente gli affidava, di fare questo, di fare l'altro, lui ha capito che poteva fidarsi a dirgli chi era.